Buongiorno a tutti, questo è il mio secondo video sul canale, nel primo video ci siamo lasciati con la configurazione di P3D in termini grafici e anche in termini del CFG per ottenere una configurazione ottimale più o meno per quanto riguarda la parte di prestazioni ed FPS, ora volevo andare a fare un tutorial per quanto riguarda la pianificazione di un volo utilizzando quindi il programma dell'Aerosoft Professional Flight Planner X, quindi lo andiamo ad aprire e vediamo come si crea un piano di volo. Ok abbiamo aperto la parte, il programma PFPX, questa sarà la prima finestra che ci appare appena aperto il programma, la prima cosa da fare è andare su Add Flight, si aprirà questa finestra nella quale dobbiamo inserire il nostro Flylumber o Callsign alla fine è la stessa cosa, possiamo ad esempio metterci un Ryanair 102, quindi sarà un Ryanair 102 da Palermo a Roma, facciamo un esempio abbastanza banale, qui potete mettere la data, la partenza, o meglio lo stimato di decollo eccetera eccetera, questo comunque potete lasciarlo anche com'è, non è un problema e andiamo a fare save, ora ci ha inserito negli schedulati un volo nuovo che deve essere ancora pianificato, quindi clicchiamo su PlanFlight e andiamo a vedere qui quali sono le parti che ci interessano, allora innanzitutto possiamo andare a vedere subito che qui manca la parte del tipo di aereo che andiamo a utilizzare, io qui ne ho già impostati due, però volevo farvi vedere anche come si mette appunto un nuovo aereo nella parte degli aircraft presenti nel programma, se noi andiamo ad aprire il menu e facciamo su aircraft data add new aircraft, possiamo vedere che c'è la possibilità di inserirne uno nuovo per quanto riguarda la parte appunto della registration degli aeromobili che andiamo ad utilizzare, nella parte type avete tutti gli aerei disponibili, ad esempio qui potremmo inserire un 737-600, quindi lui automaticamente calcola il peso massimo, il peso minimo, quant'è la distanza, che tipologia di motori ha eccetera eccetera e poi potete salvarlo semplicemente mettendoci un nome 737-600, facciamo save, save aircraft e adesso qui come vedete lui ce l'ha inserito automaticamente e rispetto agli altri due c'è anche il 600, noi ovviamente vogliamo Ryanair quindi selezioniamo il 737-800 e questo qui carica automaticamente la configurazione del 737-800, ci spostiamo sulla parte payloads, qui potete decidere voi come fare, come metterla insomma, come vi aggrada di più, anche perché il, diciamo, la parte del peso la potete mettere qui e poi dovete comunque modificarla nel PMDG quando siete nel simulatore, mettiamo ad esempio 100 adulti e 7 bambini, il cargo lo possiamo lasciare così com'è, abbiamo già lo Zero Fuel Weight e il Max Zero Fuel, nella parte Fuel qui come policy io utilizzo lo standard europeo perché appunto volo essenzialmente solo in Europa, però consiglio sempre di aggiungere all'extra time 10 minuti e anche all'all time 10 minuti in modo da mettere comunque quello scarto di carburante in più che può servire nel caso doveste allungare un po' la vostra, la vostra tratta. La parte cost non ci interessa perché riguarda appunto le spese carburante ma non siamo, fortunatamente non dobbiamo gestirli noi. La parte root possiamo inserirla direttamente facendo find, lui trova la seed e la star dei nostri due aeroporti e poi per comodità possiamo cliccare su questo pulsante find destination alternates e lui ci trova 3-4 aeroporti alternati con relativa rotta per andare appunto poi a selezionare anche gli alternati qualora ce ne fosse bisogno. Sulla parte del piano di volo qui abbiamo praticamente finito, clicchiamo su compute flight, adesso qui vediamo che ci mette un warning cioè che non sono disponibili gli upper wind quindi non ci farà vedere eventi di quota ma non ci interessa. In ultimo andiamo a cliccare su release flight, ci avvisa appunto che c'è un warning diciamo di continuare e va bene. Fatto questo abbiamo varie opzioni per salvare e esportare il nostro volo. La prima cosa che da fare è per avere comunque una cosa cartacea è fare un save o fp e ce lo salviamo come file di testo. In questo modo abbiamo comunque la parte testuale che ci riassume grosso modo il nostro volo con la rotta, la quota scelta, tutti i vari punti e la parte di fuel da utilizzare. Dopodiché possiamo fare export. sulla parte export ci salviamo sia il piano di volo in formato P3D sia in formato in questo caso PMDG perché è l'aereo che andiamo ad utilizzare. Io qui infatti li ho già selezionati come diciamo con la spunta per come salvataggio e quindi clicchiamo su save e lo automaticamente salva entrambe le rotte. Unica modifica da fare su questa sezione qui. Questa cartella qui come vedete c'è scritto P3D V3 perché non è stata ancora aggiornata la V4 quindi prima di salvarla per diciamo prima di salvare il piano di volo per P3D dobbiamo modificare banalmente questa questa directory la dobbiamo andare a selezionare sotto documenti P3D V4 files che è già quella infatti che ho impostato io. In questo modo lui automaticamente può salvare per P3D V4 anche se il nome rimane comunque V3. Bene fatto questo possiamo chiudere. Chiudiamo anche il nostro programma e ultima cosa da fare prima di iniziare il volo è caricare il piano di volo stesso su ActiSky se usate ActiSky. Andiamo su Flight Plan facciamo load e abbiamo io qua già ne avevo altri ma diciamo che l'ultimo che abbiamo creato è Palermo Roma Fiumicino lo andiamo a selezionare e lui automaticamente ci inserisce i punti e l'aeroporto di partenza di arrivo che abbiamo abbiamo selezionato sul sul programma di piano di volo. Fatto questo siamo pronti per diciamo per avviare il nostro volo e nel prossimo video farò un tutorial inerente alla partenza quindi allo startup del PMDG dalla da cold and dark insomma per per essere pronto al decollo e al taxi quindi intanto questo video era solo un video appunto esplicativo su come si può fare a pianificare un volo in maniera veloce e in maniera anche abbastanza realistica quindi spero che anche questo video vi sia stato utile se avete domande vi ripeto commentate senza grosse difficoltà noi ci vediamo domani con il video relativo appunto al PMDG e niente vi saluto una buona giornata a tutti